Allora, continuiamo con questo volume sull'arte a Montecitorio. Eravamo rimasti con la presentazione della Pivetti. Bene, questo presidente non lo farà, lascerà gli organizzatori, a cominciare dai deputati e questori, raccontare la loro fatica e la loro soddisfazione per arrivare ad offrire a tutti la vista delle migliori fra le opere d'arte che orano i locali di Montecitorio, sfondo prezioso di altre fatiche e talvolta di altre soddisfazioni, quelle della vita politica e parlamentare, della casa della democrazia, e altrettanto il presidente lasciare al curatore della mostra, illustrare il pregio artistico dei dipinti e il valore culturale dell'esposizione nel panorama contemporaneo italiano. A me, a nome di tutti i deputati e anche dell'amministrazione, spesso soprattutto il piacere di dare il benvenuto a tutti coloro che, cogliendo questa occasione, avranno deciso di scoprire finalmente che la Camera dei Deputati è anche bella. Le ragioni di una scelta di Marita Bolognese, deputato questore della Camera dei Deputati. Ma questo lo vedremo in un terzo video.